Gianni Colacione 29 ottobre 2013 Il referendum comunale Roma si muove, sono un paio d'anni fa e queste firme che peraltro, ha detto Marco, sarebbero molto meno di quelle che è stato dichiarato quindi quasi 50.000 è stato dichiarato, Marco ha detto che sono circa 26.000, se non sbaglio poi insomma si è saputo che queste firme stanno a casa della nonna di Riccardo Riccardo, dacci l'indirizzo di questa nonna, andiamo a contare queste firme Ma sì, in realtà è stata una ricostruzione parziale quella che ha dato Marco Pannella nel corso della conversazione con Massimo Bordin, mi ha chiamato in causa direttamente perché appunto ha dato una ricostruzione secondo la quale le firme non è possibile contarle perché io le ho portate via da qua, lui ha detto, e io ho già fornito la parte mancante di questo racconto l'ho fornita a Radio Radicale che mi ha dato la possibilità di intervenire su questo e in realtà è vero che io ho portato via le firme da qua, cioè dalla sede di Torre Argentina le firme sono state qua dopo la fine della raccolta dell'iniziativa referendaria quindi settembre 2012, sono state per un po' di tempo proprio qui nello spazio qui adiacente alla stanza dove stiamo poi sono state spostate giù nel magazzino e successivamente, quindi dopo qualche mese adesso poi possiamo pure ricostruire, a me è stato chiesto più volte e con insistenza di trovare un'altra collocazione per quelle firme perché non potevano più stare in magazzino e non c'era spazio devo dire io non l'ho trovata facilmente la collocazione perché appunto alla fine siccome la richiesta era sempre più insistente mi sono fatto prestare la macchina da Davide Ambrosini al nostro compagno e una domenica mattina mi sono fatto aiutare, ho caricato queste firme e le ho portate nella piccola cantina di mia nonna a Testaccio e questo è stato ora vabbè, al di là della ricostruzione del fatto che evidentemente o a Pannella era stata raccontata parzialmente oppure lui l'ha riraccontata parzialmente, io questo non lo so come può essere andata la cosa Marco ci ha tenuto a dire che non era una responsabilità individuale mia non era una responsabilità personale, lui non voleva dare una colpa a me, una responsabilità ma che questo fatto qualificava un po' l'ambiente di radicali italiani, di radicali Roma quindi qualificava forse politicamente l'ambiente allora io sono sentito di chiedergli in che modo allora qualifica l'ambiente questo pezzetto del racconto che io aggiungo nel senso che se a un certo punto si ritiene che è indispensabile per motivi di spazio che tra l'altro non mi sembravano così pressanti che quelle firme vengano tolte da lì o buttate via anche questo dovrebbe qualificare in qualche modo l'ambiente poi dopo di che mi sembra una polemica un po' sciocca un po' veramente molto poco politica però c'è anche il dovere di rispondere per ricostruzione della verità sulla seconda parte che mi riguarda sempre e cioè sul fatto che la mia candidatura alle elezioni amministrative romane recenti e la mia elezione sempre secondo quello che ha detto nella conversazione Marco Pannella avrebbe costituito di fatto una delusione rispetto a tutti i cittadini di Roma che in occasione delle regionali del 2010 quando era candidata Emma Bonino presidente avevano fatto fiducia ai radicali alla lista radicale che aveva avuto in quell'occasione la lista Bonino Pannella un ottimo risultato io ero candidato chiaramente nella lista Bonino Pannella alle regionali, nella lista provinciale di Roma abbiamo come associazione radicale di Roma fatto quella campagna elettorale io ero segretario dell'associazione abbiamo lavorato molto siamo andati a raccogliere le firme non solo a Roma ma anche a Frosinone e a Viterbo per consentire alla lista di presentarci perché nonostante fosse candidata Emma Bonino oppure proprio perché era candidata Emma Bonino non ci fu un aiuto delle altre forze politiche della coalizione per la raccolta delle firme per la presentazione o magari le raccoglievano anche in quel caso come le raccolgono sempre queste liste ecco però quello che ci ho tenuto a precisare forse di più della parte sugli scatoloni delle firme che lì stanno e sono a disposizione di chiunque insomma ne voglia vedere è il fatto che la mia candidatura nella lista civica per Marino arrivata negli ultimissimi giorni prima della scadenza elettorale è arrivata proprio dopo l'iniziativa referendaria che Marino aveva sottoscritto impegnandosi su quei punti è stata una candidatura che è avvenuta in mancanza di un interesse politico e elettorale per quella scadenza da parte di tutta l'area radicale e quindi non ha pregiudicato come ha fatto intendere Marco Pannella nel suo intervento la presentazione di una lista radicale che non c'era semplicemente la presentazione di un candidato sindaco radicale è stata casomai diciamo è avvenuta in un vuoto di iniziativa elettorale in quel momento e dal nostro punto di vista dal mio punto di vista rappresenta comunque un'occasione e un'opportunità di iniziativa politica radicale su Roma ed è quello che stiamo facendo Sì, molto chiaro Riccardo una cosa volevo chiederti proprio perché sono ignorante ma il regime diciamo di queste firme come firme appunto per questi referendum che non sono state per cui non si è raggiunto il minimo qual è? Vanno conservate? Un toto? Sono documenti ufficiali? Per quanto tempo? Il regime nel momento in cui non non si depositano e noi non le abbiamo depositate le firme in quell'occasione sono firme che si hanno che sono state rilasciate che vanno trattate nella parte in cui c'è la sottoscrizione per la privacy e quindi i cittadini hanno anche messo la doppia firma diciamo autorizzando l'utilizzo dei dati da parte dei soggetti in calce e quindi in quel senso possono essere utilizzate dopodiché non c'è stato un deposito formale sull'iniziativa referendaria Ho capito e quindi niente siamo ormai alla vigilia del congresso di radicali italiani il dodicesimo congresso per cui Radica di Roma di cui tu sei stato appunto anche segretario è un'associazione collegata in qualche modo affiliata ecco come te lo immagini come sarà questo congresso? Io spero che sia un bel congresso spero che riusciremo a convincere tanti compagni e anche ho visto nell'ultimo comitato che non sono venuti molti non sono venuti nell'ultimo comitato perché hanno detto insomma che per motivi di lavoro o altro non potevano permettersi diciamo un doppio viaggio così ravvicinato e che quindi sarebbero venuti direttamente a Chianciano io spero che ci sia una una buona partecipazione sia come qualità sia come quantità ne sono convinto sono convinto che andrà così e quindi buon lavoro a tutti grazie Riccardo Maggi grazie a voi grazie a voi grazie a voi